Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono FaviJ Ed oggi siamo su FaceRig Lo conoscete tutti i FaceRig che ho fatto anni e secoli fa Aveva avuto un successo che è Mango Gesù In realtà l'hanno aggiornato e hanno messo questa cosa Che adesso sembro un demonio E non so perché hanno messo questa cosa Però è raccapricciante Questo videogame praticamente riesce a riconoscerti la faccia E a imitare coi personaggi quello che fai Tipo Oddio Oddio Cosa cazzo ho cliccato? Fermi Allora No Oddio Mi si è materializzato Ma no Ma perché? Ragazzi ho bevuto un po' di Red Bull Che mi ha messo le ali Vabbè direi che può bastare questa cosa molto brutta Ma poi ragazzi comunque ho deciso di rifare FaceRig Perché hanno aggiunto un sacco di personaggi Tipo Eh già Ma perché c'è un bambino dentro la mia bocca? Oh la mia preferita Oddio quella della birra Cazzo Quanto ha senso Elsa Ma ciao Tesoro Da quant'è che non ci vediamo? Hanno aggiunto gli anime Natsuko Natsuko Ciao Ascolta Suki Eeeh Serio Ciao Sono una tipa Eeeh C'ho le tette Viva le tette Veloci Perché un velociraptor dovrebbe parlare? Cacresta Guarda che gnocco Ehi Bel maschione Sono un velociraptor Sì Ma non ha letto Sì un gran figo Comunque voglio che Cos'è sta roba? Ma che è cupido? È un cupido ubriachissimo Arte sverso Io posso innamorare la gente Eeeh Passa una birra Quanta roba hanno aggiunto L'ultima volta che ho giocato? Cos'è un pupazzo? Ah no questo qua c'era Questo era uno snowman Ah quanto è triste È triste ragazzi Perché c'ha le sopracciglia nel naso Cosa che non ho capito perché Però vabbè dai Questa l'avevo già visto Buonasera sono Angela Eh sì salve Vorrei ordinare una pizza Prosciutto e patatina La passo a prendere D'accordo A tra poco Salve A tra poco Salve E loro non sapranno mai Che è stato Frankenstein Ordinare questa pizza Sono un clown horror Cioè vuol dire che faccio Battute Dell'orrore Vuoi sentire una barzelletta Dell'orrore? Allora Uno scheletro Dice all'altro scheletro No no Aspetta non faceva così Era Qual è il colmo Per due scheletri? Essere amici Per la pelle No faceva No Non faceva vivere Cambiamo avatar ragazzi Mettiamo questa qui Ah Jane Ciao Jane Perché c'hai la bocca Dentro la bocca Jane Ma per cos'era questa roba Dio mio Jane Ma hai mai visto un film romantico Ma Dio mio Ma mostra Escile almeno Non lo so Non le esce Fotorealistic Torquei Ma che cazzo dici Ah 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 Aspetta ma non è Non è gelata la fragola Questo che c'ho sul naso Anche il tacchino Può rimorchiare con le sopracciglia Ormai rimorchiano tutti con le sopracciglia Ragazzi È una cosa fissa The più di ver Veramente C'è più di pine Ma come Per quale cazzo di motivo Hanno messo più di pine In face ring My name Is Fabi Jay Alza il bravrast Non ce l'hanno All'alza Vabbè dai Ci arriveremo in futuro Fammi cercare altre cose No più di cerco io Stai ziti e fermo tu Oddio c'è dread out C'è la tipa di dread out Questa era una gragnocca ai tempi Dio mio Guarda che si guardo Che ti colpisce Nell'anima Comunque hanno messo la tipa Oddio anche il fantasma Di dread out Ma come è possibile Guarda c'è Fabi Jay Secondo i ragazzi sono più raccapricciante Io che ho gli occhi rossi Rispetto a Si però apri la bocca ogni tanto Questa è la cosa più nuova Che hanno aggiunto Secondo me Che sono le cose in 2D Quanto è figo Ho sempre voluto essere Un fottuto personaggio Di un anime Senpai Mi si sta chiedendo l'occhio Senpai Oh senpai si Fai di me quello che vuoi Senpai Ma non avete visto niente voi Non avete visto niente Questa se sta Sta tenendo la mano sul culo Perché sa di essere gnocca Che cazzo Che cazzo guardi Bella lei Bella lei Che sa di essere figa Ma sai che dicono di solito Le tipe negli anime Che sono in questa posizione Perché pensi che possa essere interessata a te Kiritokun Non so perché Dicono Ma sapete queste cagate Tipo Frienzon Oddio Izumi Che sembrelli di The Last of Us Questa Te manca la lingua Si Le fai la dubstep con gli occhi pure E come ultimo ragazzi One E la madonna One corromocchi Io non so dove viva questo cane Né di chi sia Ma lo voglio Ok Bellissimo ragazzi Oh la madonna Quando mi sveglio la mattina Te lo giuro zia Siamo uguali Non c'è problema per la pietrificazione Intanto c'ho il c***o De marmo D'accordo ragazzi Concludo che l'episodio È stato veramente figo Però devo andare a prendere la pizza E niente ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto E spero che abbiate tutti imparato Che c'è una volpe Dentro ognuno di noi Pronta A ordinare La pizza Quindi ragazzi Niente Se il video vi è piaciuto Come solito lasciate un commento E un mi piace Anche la pagina di facebook E come noi i video Trate nella descrizione Se non siete interessati Iscrivati amici Vediamo nel prossimo video Bella ragazzi Grazie